Alla fine è arrivato il grande atteso da parte dell'Erici Sport di quest'estate e anche dell'inizio di questo autunno. Si tratta di Tomas Eceniche, il capitano della nazionale argentina, terza agli ultimi campionati panamericani che intraprende quindi la preparazione coi l'Ericini al prossimo campionato nazionale di serie B e comunque non nuovo ad esperienza in Italia. Sono Tomas Eceniche, ho 30 anni, sono un nuovo giocatore di l'Erici Sport, sono molto contento di essere qui, sono appena arrivato, i compagni di squadra mi hanno trattato molto bene fino adesso. Io ho giocato in tante squadre, principalmente ho giocato in A1 nella Spagna, una squadra che si chiama San Feliu, anche sono giocatore della nazionale argentina, ho fatto delle World League, Australia, Nuova Zelanda, anche ho fatto i mondiali a Fukuoka questo ultimo estate. Ho giocato anche a due Civita Vecchia e questo anno pure a Palermo. Sono contento, sono il centro boa, anche il capitano della nazionale argentina, molto contento di essere qui, come ho detto prima, e aspetto che possiamo arrivare all'obiettivo fino all'ultimo, fino al 15 giugno. Ci aspettiamo a tutti, ai tifosi per fare supporto alla squadra.